Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Grim Fandango Remastered. Bene, nel club di Maximino dovremo parlare con un sacco di NPC. Il primo è quello. Già, come avete potuto intuire, dobbiamo scendere per quell'ascensore. Non voglio fare presidente. E perché Max ha i tuoi soldi? Gliene ho data una valigetta piena, come bustarella su una grossa sconnessa, il mese scorso. È il pulsante per l'ascensore. Intanto prendiamo questa. Sembra una siringa da tacchino. Sembra una siringa da tacchino. Ok, ok, grazie, Manny. Adesso usciamo. Chissà se è uscendo e rientrando. Ah, si può parlare anche con Raul. Impegnata come al solito, vedo. Impegnata come... Ok, ok. Sveglia! Ehi, sto cercando di dormire qui. Scusa. Fa come se non ci fossi. Sono di passaggio. Per dove? Per l'ascensore. Ne dubito. Scendi? Può darsi, più tardi. Non posso scendere in cantina? È la cantina del vino. Il vino scende laggiù. Potresti mandarmi giù ora? Oh, certo. Potrei mandarvi a terra. Ma non posso più picchiare i clienti. Giù nell'ascensore. Voglio scendere nell'ascensore. Giusto. Nell'ascensore non mi vedrebbero mentre vi picchio. Ma mi metterei nei guai lo stesso. Perché non puoi più picchiare i clienti? Appunto. Non ha senso. Apri la porta dell'ascensore e basta. Ma così ci vedrebbero combattere. Non voglio combattere. Voglio solo usare l'ascensore. Coniglio? Che ne dici di una mancia? Guardami. Cosa puoi offrire a uno che ha tutto? Ehi, picchiamo quel cameriere. Non è una cattiva idea. Ma è nuovo. Lascialo stare. Ok, notte. Eccolo lì. Quello è Nick. Nick è un vero viscido. Nick Virago. Come mai lavori qui al circolo? Credevo che l'avvocato personale di Maximino avesse un ufficio privato. Ce l'ho. Ma lì non servono da bere. Sei sporco di rossetto, pomigioni. Andiamo, zuccherino. Solo un bacio. Oh, fammi il piacere, Nick. Sei un avvocato. Non puoi avere sentimenti. Infatti. Ma riconosco un buon atto impuro quando lo vedo. Ehi! Se Maximino la vede, finiamo tutti e due in vasi di terracotta gemelli. Non essere stupido. Non mi farebbe mai del male. Lui mi ama. Me ne sono già sbarazzato. E posso fare lo stesso con te, Calavera. E posso? Manny! Ho un messaggio per te da parte di Lola. Lola? Sì. Dunque... Dove l'ho messo? Dove? 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 Oh! Qui! No! Aspetta! Cribbio! Ho un nuovo sistema per i messaggi. Aspetta solo... Qui! No, 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 aspetta! Ah! Zitto! Eccolo! Un momento! È vuoto! C'era qualcosa dentro! Sembrava una chiave! Una chiave? Sì! Ma qualcuno deve essere entrato a rubare la chiave mentre riordinava i cappotti! Chi può essere stato? Mi hanno mandato all'aria tutto il sistema! Quindi, se fossi in te, chiuderai il becco! È tutto in ordine con i gatti? Sì, li tengono molto puliti. Vedi qualcuno in particolare nella quarta corsa? Beh, c'è un ciccione con le zampe bianche in corsia 2 che sembra forte, ma ha una leggera infezione ad un occhio. Ma credi che guarirà e vincerà lo stesso, giusto? No, quel guercio perderà di sicuro, ma chi lo sa? Credo che farò un bel colpo. Devo dirlo a qualcuno, io odio i gatti. Anch'io, ma mandano avanti questa baracca. Nick, mi serve un avvocato. Ti sei messo nei guai, Calavera? Un mio amico è in Gambia. Dunque, ti serve un avvocato qualsiasi o un ottimo avvocato? Dovremmo, purtroppo, dare ragione a Nick, altrimenti non ci aiuterà mai. Un ottimo avvocato? Un qualsiasi ottimo avvocato? O il miglior ottimo avvocato? Il migliore in assoluto mi va bene. E chi sarebbe, secondo te, Calavera? Chi è il miglior avvocato sulla piazza in tutta la terra dei morti? Sei tu, Nick. Esatto. Ed ecco perché Maximino mi vuole in esclusiva. Quindi spiacente, ma non faccio secondi lavori. Va bene, va bene, Nick. Non mi vuoi aiutare. Questo invece è Maximino. Salve, Maximino. Che mi prenda un colpo se non è Manny Calavera. Sei venuto a vedere come giocano i grandi, Manny? Da quello che vedo giocano con i gattini. Gatti, roulette. Che differenza c'è? Entrambi girano in tondo tutto il giorno. E sono più redditizi quando sono truccati. Non ti sembra? Come vanno le corse, Max? Ma... Serata morta. Tutti sono fuori città. Parlamene. Ma ho delle entrate collaterali che mi aiutano a rientrare delle spese. Che tipo di entrate? Manny. Diciamo solo che i nostri soci di Almidollo apprezzano la nostra ampiezza di vedute. Ti sei proprio sistemato bene qui. Anche il tuo piccolo club non è male, Manny. Non come quello della mia fidanzata, è chiaro. La tua fidanzata? Ah, Manny. Non fare finta di non sentire i pettegolezzi. Non è più un segreto. Olivia e io siamo fidanzati ufficialmente. Ho appena visto Olivia e Nick baciarsi. Manny. Qui tutti ci baciamo. Siamo tutti una grande famiglia. No, voglio dire proprio baciarsi, Max. Manny, io e Olivia siamo innamorati. Nick Verago e Danny, mio consulente di fiducia. Non dovresti scherzare così su di loro. Potrei arrabbiarmi sul serio. Non sto scherzando. Basta così, Calavera. Dico sul serio. Parliamo d'altro, d'accordo? Sono qui per i soldi di Charlie. No, sul serio. Dice che ne hai tanti. Oh, ne ho un sacco. Ma niente che gli appartenga. Lascio la città stanotte. Fantastico, Manuel. Nessuno più di te ha bisogno di una vacanza. Cambia aria. Dimentica quella Meci. Mi piace la nuova mongolfiera. Sì, ho deciso che quello che accade con la Olivia 1 non doveva abbattermi. Prova a immaginare. Tu cerchi di far colpo sulla tua ragazza costruendole un bellissimo pallone e cosa ti succede? cade, esplode, incendia il tuo circuito e per giunta uccide il tuo gatto preferito. Non è il genere di cose che fa battere il cuore di una ragazza. Te lo posso assicurare. Il tuo nuovo cameriere è un tipo strano. Perfino per il genere cameriere snob. Ah, Manny, quando giudichi le persone in questo modo è come se li mettessi dentro piccole scatole e non li facessi più uscire. Tutti noi siamo dentro piccole scatole, Max. Due metri sotto terra. Adesso parli come un medico legale, Manny. Dacci un taglio. Beh, continua pure a guardare dalla tua finestra. Non mi stanco mai dei miei gatti. Ebbene, adesso dobbiamo uscire dal club. se mi ricordarsi come si esce, ovviamente. Ah, giusto, è da là. Guardate che lag qui dentro. Non ho capito perché in questa versione... Ecco qua l'ascensore. Adesso andiamo di qua. Manny Calavera! Non venite più a trovarmi? Beh, pensavo che avrei potuto utilizzare la compagnia oggi che tutti sono fuori per il giorno dei morti. in questo caso, Manny, perché non vi fate un giro fino alle 6? Io smonto a quell'ora. È un metal detector. Oh, ecco perché non riesce ad asciugarmi i capelli. È un metal... Oh, ecco... Ah, Carla! Senata dura? Per niente. Sono già andati tutti via per le vacanze. Questo posto è un mortorio e io mi annoio, Manny. Mi annoio! Perché la navetta sta aspettando? Ah, no, la stanno pulendo ma sono molto scrupolosi. Ci teniamo a queste cose, sapete? Posso provare il vostro metal detector? Perché questo improvviso interesse nei metal detector, Manny? Sono solo un collezionista. Beh, ve lo mostrerò durante la pausa pranzo, va bene? Quando fate la pausa? All'alba. È troppo tardi. Devo salpare stanotte. Sì, come no? Mi hanno fregato già troppe volte con questa frase. Credo che sia ora di pausa. Potremmo bere qualcosa nel retro e voi potreste raccontarmi tutto del vostro lavoro. Il pericolo, i metal detector. Il retro è impegnato per lavoro, Manny. E lo sono anch'io. Che tipo di lavoro svolgete là dietro, Carla? Perquisizioni personali. E voi non siete qualificato. Perché non potete farmi una perquisizione personale? Ammetto, Manny, che aiuterebbe a passare il tempo ma abbiamo delle procedure da seguire e non si può mai sapere quando si è controllati. Posso eseguire perquisizioni personali solo quando le normali perquisizioni non sortiscono effetti. Interessante. Ehi, vale la pena provare. Oh, oh, adoro questa parte. Per cortesia, signore, vogliate posare tutti i vostri effetti personali sulla scrivania. Siete pulito? Maledizione, Manny. Stavo quasi per farvi una perquisizione corporale. Oddio, era sparita per un secondo. Perché non vi si vede più al club? Per dirvi la verità, Manny, è a causa della ragazza del guardaroba. Tutta quell'energia mi fa venire voglia di strangolarla. Ci ho provato. Non si ferma nemmeno così. Allora, è ora di pausa finalmente? Ve l'ho detto, non prima dell'alba. Piuttosto romantico, non credete? Bene ragazzi, grazie per aver visualizzato il video. Ci vediamo alla prossima.